Nuovi scontri alla contesa frontiera tra Cambogia e Thailandia. Per il quarto giorno consecutivo i due eserciti si sono fronteggiati, questa volta presso il Tempio Hindu di Prehavi e Har, a circa 150 km di distanza dal luogo dei combattimenti degli ultimi giorni. 12 finora le vittime tra i soldati, centinaia le persone evacuate.